Che cosa significa per il direttore di un carcere portare un progetto di questo tipo dentro al carcere? Io amo la musica, i musicisti e quindi per me è stato veramente un piacere. Dal punto di vista istituzionale è importante dare un messaggio, il carcere è anche un centro di cultura, quindi il video è un'occasione per dire che nel carcere ci sono persone, hanno bisogno di avere un aiuto, un sostegno, hanno bisogno di essere riconosciute intanto nella loro dignità di persone e hanno il diritto non di perdere la libertà a divinis, ma di recuperare e restituirsi a una società libera e più giusta. In questo nostro singolo vogliamo comunicare che è un messaggio forte, un messaggio che si può perdere anche fuori, non solo dentro. E noi l'abbiamo fatto con la prigione perché era la metafora più giusta e più forte che potevamo scegliere. Abbiamo sentito la durezza, la pesantezza del carcere e speriamo che sia una riflessione per tutti quelli che guarderanno questo video e si possano mettere nelle condizioni di chi sta qui dentro e cercare un attimo di vedere il carcere con un altro punto di vista. Si fa musica anche per aiutare la gente che ha bisogno, la musica è nata proprio per questo scopo qua e deve continuare questo scopo qua fortemente. Il 17 dicembre facciamo un concerto, abbiamo preso dei pezzi che parlano di queste situazioni qua, come Bob Dylan oppure Johnny Cash, queste cose qui. Facciamo un concerto e inviteremo tanta gente, speriamo che vengano. All my soul to the company store 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 All my soul to the company store